Siamo qui in piazza, in un paese, non riusciamo a capire che danni può fare una persona che va a prendere un caffè o un bar rispetto a una persona che va al centro commerciale a comprare una cosa, oppure tutti i nostri sacrifici poi svaniti la mattina alle 5 alle 6 dove la gente si accalca nei mezzi pubblici e quant'altro. Siamo commercianti del posto, bar, ristoranti e niente, era un modo per incontrarsi per parlare un attimo un po' di queste nuove restrizioni, un confronto, era un primo incontro diciamo, vediamo se ci sarà seguito di una protesta simbolica più che altro perché poi il comune c'entra poco insomma. E' un po' una grande presa in giro soprattutto poi il fatto che ha tante attività, tante attività hanno investito sulla sicurezza e quant'altro e tutto questo diciamo, questa volontà è stata poi svanita da questa assurdità di chiudere i locali, che ecco anche io ho il locale, che lavoriamo soprattutto la sera, quindi mi dici di chiudere alle 18, non è una chiusura ma è quasi peggio. Quasi peggio.